Ero perso nel deserto qualche anno fa, la mia jeep si era rotta tra Parigi e Dakar, ma avevo letto molti libri su come fare per restare nel deserto senza l'acqua minerale. Quante brutta tanta sabbia, non potete capire, vi si appiccica dovunque e non ti puoi lavare. Quello che è successo dopo non lo dovrei dire, ma ad un tratto oltre la duna vedo conferire. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!